...di affetti, i propri genitori, gli amici, prendere per un periodo che poteva essere anche lunghissimo la strada dei monti, vivere in situazioni disagiate, imbracciare un fucile, vedere cadere i pochi compagni in lotta e tante volte non portare neanche a casa la propria vita. Quindi è stato un qualcosa di veramente importante. Il mio desiderio è che questa storia venga raccontata anche fra mille anni ai bambini come voi perché tutto quello che abbiamo oggi è grazie a loro. Se oggi ci possiamo vestire di verde, di giallo, di blu oggi possiamo dire le nostre opinioni. Quindi mi raccomando ragazzi ricordiamoci sempre l'importanza di quello che ci hanno facciato ai partigiani. Ci hanno donato la libertà ed è costata loro la vita quindi mi raccomando portatevelo per sempre. Oggi non è un caso che ci troviamo in questa rimessa piena di autobus perché ai tempi della resistenza molti partieri di Genova presevano porta a questa lotta contro il regime nazifascista. L'autista ha un ruolo che non mi stanto mai di dirlo quando qualche ragazzo vuole essere autista. Ha un ruolo fondamentale come valore sociale e mi aggancio a questo ragionamento. Vorrei raccontare una storia brevemente, una storia che ho conosciuto trochi mesi fa quando in occasione della giornata per la memoria ho letto un libro che si è incuriosita da noi, il nome era Un tram per la vita. Un libro che parla proprio della potenza del rapporto tra i tramviere e la popolazione. Si parla di un fatto veramente accaduto a Roma nel 1943 perché c'è una giornata dell'estallamento dei nazisti nell'aggetto ebraico. È la storia di un bambino e della sua mamma che vengono catturati dai tedeschi sul cane. La mamma, sapendo che alla fine sarebbe stata tragica perché sarebbero stati deportati nei campi di concentramento, lascia cagare il suo bambino, lo lascia a terra. Il bambino rendendosi conto di essere perseguitato e conscio della sua condizione più diverso, perché purtroppo l'ebrea in quel momento era considerato così, Fabio uno dei pochi li conosce, va da un taglio, da tramviere. Dice al biettario di essere ebreo e chiede di essere protetto. In quel momento inizia un viaggio che è fermata dopo fermata, capolinea dopo capolinea e soprattutto tramviere dopo tramviere lui viene protetto. Viene culpato, nutrito, soprattutto gli danno ricovero di notte nei depositi di Roma e quindi questi colleghi, questi nostri colleghi di quei tempi di Roma lo hanno salvato, fino a quando hanno potuto darlo al papà. Ho voluto raccontarvi questa storia per due motivi. Uno, perché noi come categoria, tutti i miei colleghi, dobbiamo sapere da dove veniamo.